si aperta oggi sabato 18 ottobre presso la sala gioia in piazza gioia a nova milanese la prima rassegna di disegno giovanni sprea fico riservata ad artisti appartenenti all'associazione internazionali artisti che disegnano con la bocca o con il piede la rassegna è promossa e organizzata dall'accademia di pittura vittorio viviani di nova milanese su invito della società di atletica leggera asd la fenice fondata da ex allievi e collaboratori dello stesso sprea fico alla rassegna partecipano i pittori bruno carati lorena guarise mario barzon natalia marcantoni santina portelli tarquillo fregoni e riverto zomero sono intervenuti all'inaugurazione in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessore alla cultura andrea apostolo il presidente ingegner luigi rossi e il direttore alessandro savelli per la libera accademia di pittura vittorio viviani di nova milanese il presidente della sd la fenice angelo peritore il giornalista davide spinelli del giornale di desio tra i presenti all'inaugurazione e molto commossi la moglie di giovanni sprea fico itala le figlie e i nipoti buon pomeriggio a tutti io sono savelli sono il direttore della libera accademia qui di nova milanese e sono particolarmente contento prima ho fatto un interiore giro dei vostri lavori di tutta la vostra associazione e quindi noi siamo stati molto contenti di ospitarvi via nova milanese di ospitarvi associazione della felice quindi su queste su questi basi su queste basi su questi fatti sono quasi orgoglioso perché ho visto veramente dei lavori straordinari siete proprio bravi molto bravi si sente che avete una grande passione e questa passione è la cosa credo importante per qualsiasi persona per qualsiasi individuo che si cimenta e voglia esprimere in fondo quello che vive ma anche quello che sente e mi pare che ci siete assolutamente riusciti con tutte quelle normali difficoltà che tutti hanno perché dipingere non è facile che che se ne dica e quindi voi avete superato di sicuro molto bene questa prova e grazie per la vostra partecipazione e mi auguro che venga apprezzata come almeno e quanto l'ho presentata io da tutti quanti grazie io mi presento sono l'assessore alla cultura di nova milanese sono particolarmente lieto di questo evento perché peraltro si inserisce perfettamente all'interno di una sequenza che si sta svolgendo questa fine settimana che vede un intreccio molto stretto e un po' particolare tra la cultura e il sociale oggi poi cioè oggi adesso in questo momento questa cosa fa addirittura uno scatto in più aggiungendo anche la partecipazione di una società sportiva che è la Fenice quindi portando ad un livello successivo questa questa unione rispetto a questa mostra sicuramente mi unisco alle parole di Savelli nel senso che vedo dei lavori davvero notevoli ecco soprattutto considerato lo sforzo non indifferente. Detto questo io mi congratulo davvero ancora con voi e vi ringrazio di nuovo ringrazio ovviamente tutti quelli che sono intervenuti nella realizzazione di questo evento quindi oltre all'associazione La Fenice che è il primo promotore anche alla libera carina di pittura dell'associazione di Savelli e dell'ingegner Ligi Rossi ringrazio anche voi che siete anche pubblico insomma che è qui per il godere della mostra e lascio la parola all'associazione La Fenice grazie Per me parlare di sprefico è un po' difficile La Fenice nasce grazie diciamo ai suoi ragazzi che non vogliono far morire tutto quello che lui ha creato, che ha fatto nello sport e così via Cosa devo dire di Armando? Armando è uno che ha dedicato gran parte della sua vita agli altri tutto quello che ha fatto l'ha sempre fatto per gli altri, mai per una cosa propria cioè era sempre rivolta verso gli altri Per quanto riguarda il discorso sentite nell'ambito sportivo riguardante la disabilità forse non tutti sanno che il mondo parolimpico, quello che c'è attualmente in Italia è nato qui, è nato qui a Nuova, a metà anni 70 eravamo io ragazzo, un malo che è qui che ci dipende, che era ragazzo anche lui quando ci siamo buttati dentro in questa attività tirando dentro anche l'Armando che quando ha visto la cosa ci si è buttato dentro al capofitto in questa cosa qui, non ci ha creduto noi da ragazzi così, non so, forse siamo stati illuminati, abbiamo visto un po' in là più avanti a noi l'Armando in tutti questi anni trascorse al passato quattro legislature all'interno della federazione sportiva dei disabili addirittura gli è stata riconosciuta la stella d'oro al merito sportivo da parte del CONI che è il massimo premio a livello dirigenziale del CONI è sempre stato un dirigente, direi coi fiocchi, secondo me se ne vedono pochi tutto quello che è sempre fatto non è stato mai fatto per interesse proprio ma sempre rivolto verso gli altri, c'è tanto per dire dalla creazione della società che avevamo qui a Nova che poi per forza di cose ci siano dovuti trasferire a Monza, ma non per qualcosa perché a Monza come città per lo sport dei disabili che offriva degli spazi e delle strutture adeguate che a Nova purtroppo allora non c'erano, oggi Nova ha un impianto sportivo che allora non c'era Nova non ha una piscina come Monza, il comune di Monza allora ci aveva messo a disposizione un centro sportivo intero a disposizione della società, la società che prima era nuova adesso si trova a Monza si chiama Silvia Tremonada, attualmente è una delle società più importanti d'Italia, creata da Spria People, successivamente quando questa società ha cominciato a camminare per i fatti suoi, per il figlio l'Armando insieme ad altri amici ha creato altre società Armando era un grande uomo e un grande dirigente, cioè proprio una persona vera e tutto quello che l'ha fatto l'ha fatto sempre a favore degli altri Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti